Se avete avuto modo di sentire un po' Paolo, poi hai detto sempre di essere ispirato e gli altri direttori in particolare hanno avuto Baglioni, Conti e Fazio che hanno un po' avviato questo percorso di svegliamento del stress, di cui hanno tornato a dire no? Per quanto riguarda Baglioni, Conti e Fazio hanno dato dei messaggi, in maniera particolare ho un rapporto da tanti anni sia con Carlo che con Fabio, ci siamo anche sentiti telefonicamente, hanno dato messaggi bellissimi quasi ogni giorno durante la settimana, Pippo sì, ci siamo sentiti prima, avrei voluto averlo al festival di Sarai con Pippo Baudo, purtroppo sono un piccolo problema alla schiena, ti saluti, niente di preoccupante, però è chiaro che affrontare un viaggio così lungo ma Pippo lo sento spesso, è stata devo dire anche la prima persona che ho sentito perché l'avrei voluto a Sarai non giovane come ricorderai, sì Pippo insomma è una persona quale tutti noi siamo legati.